Ogni mese un appuntamento a tema, oggi parliamo di zucca e la stiamo vedendo all'opera con questi ravioli con la zucca. Sì, allora è una tradizione dei mercati di campagna amica in Italia che in una data ogni mese portano alla ribalta il prodotto di stagione, il prodotto oggetto di biodiversità per far conoscere soprattutto ai nostri clienti quello che è la stagionità e il prodotto. Perché oggi con la globalizzazione e con la standardizzazione del mercato abbiamo tutti i frutti, tutte le verdure, tutti i prodotti in ogni periodo della stagione. Perché la zucca? La zucca è il frutto di collegamento tra la stagione estiva e la stagione invernale, è quella che dà un po' di colore. È quella che abbiamo riscoperto grazie a una festa che non è la nostra ma importiamo dall'America che è la festa di Halloween. Quindi noi prendiamo la parte buona della festa di Halloween, cioè il consumo della zucca. Poi le zucche di Halloween sono vuote, sono insipide ma hanno quello scopo estremamente estetico. Le nostre sono belle, corpose, sono ricche e sono saporite. Oggi nel mercato insieme alla zucca abbiamo anche frutti di stagione come il caco, come il melograno, come le noci e cerchiamo di abbinarli nella cucina. Stiamo vedendo questi ravioli che sono stupendi. Questo è un raviolo classico di zucca dove la particolarità è nella pasta fatta con le uova delle galline allevate a terra e la sfoglia con la farina senatore cappelli e carosella che sono due grani antichi. Il ripieno è fatto con una vellutata di zucca preparata prima ma si può trovare già nei nostri scaffali della nostra azienda agricole e con l'utilizzo della ricotta di pecora e del formaggio di mucca che non deve mai mancare nel raviolo tradizionale abruzzese. Servito con burro e salvia, ovviamente il burro prodotto dalle nostre aziende agricole caseari. Abbiamo utilizzato il burro anche se siamo in piena stagione di olio, però questo è l'olio nuovo, quindi l'olio nuovo è abbastanza aggressivo con un sapore come la zucca, quindi abbiamo preferito utilizzare il burro. Poi ci sono anche tanti dolci che si possono fare con la zucca? Ci sono tanti dolci, per i dolci abbiamo invece utilizzato la tradizione stipia contadina, cioè le nostre signore del mercato hanno portato questa mattina ognuno di loro il loro dolce fatto con la zucca nel senso di ospitalità verso i clienti e nel rispetto della tradizionalità e della territorialità delle nostre aziende agricole.